e salve a tutti amici del canale di albio 82 buon pomeriggio partiamo con una nuova recensione allora ragazzi continuiamo a vedere insieme questa fantastica raccolta di edicola dedicate alle maghette dei cartoni animati anni 80 e questa fantastica raccolta cremi mami e le incantevoli maghette 3d collection allora come vedete qui di anza voi c'è la seconda uscita che per l'appunto magica e mi nel video scorso ho fatto la prima video recensione del primo fascicolo che è uscito proprio l'incantevoli crimi eccola qui fantastica se non l'avete vista andate a recuperare nel canale ma adesso dedichiamoci a questa seconda fantastica uscita eccola qui il packaging lo stesso degli incantevoli crimi qui c'è la statuetta di magica emi ecco il fascicolo vedete qui seconda uscita magica emi a 12 euro e 99 e dietro ci sono le varie uscite dove la prossima è questa qui iu marisawa dell'incantevoli crimi non credo che lo prenderò io mi fermerò qui che mi interessano i primi due le prime due uscite ma non perdiamo tempo ragazzi apriamo il tutto e vediamo un po di cosa si tratta confezione aperta ragazzi vediamo un po come al solito è uscita la cartolina dove si può fare il classico abbonamento eccolo qui con le varie uscite future eccolo qui stessa cosa questo e poi c'è il classico giornaletto nel fascicolo e con cui crimi mammi l'incantevole ma che 3d collection magica emi the magical start magical emi ecco qua bellissimo questo disegno stramaga all'interno c'è l'editoriale ecco qui bellissimi questi disegni diamo avanti qui parla un po del personaggio qui il magico braccialetto a bacchetta di emi ecco qui la formula magica originale qui c'è un piccolo poster della statuetta che tra un po vediamo poi qui c'è un breve riassunto della serie animata bella 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 qui continua ed eccola qui è la terza uscita e iu morisawa di nell'incantevole crimi eccola qua adesso passiamo alla cosa più interessante eccola qui ragazzi la statuetta di magica emi dentro la sua confezione peccato che mi è uscita un po l'allata questa questa confezione però vabbè non fa niente l'importante che la statuetta al suo interno è integra vedete qui the magic star le magie magical emi eccolo qua molto carino il packaging perdiamo tempo apriamo vediamo un po di che passo è fatta la nostra maghezza e guala facciamo questo qui abbassiamo un po eccolo qui vediamo e guala ragazzi guardate qui che meraviglia se focalizza ecco qua ragazzi guardate qui che splendore anche questa statuetta ragazzi guardate il painting degli occhi a me fa impazzire come hanno dipinto questi occhi veramente bellissima date anche la carta qui col cuore veramente magnifica classica basetta forma di stella glitterata le sue classiche calze lilla ecco qua guardate qui il gondellino glitterato morbidissimo ecco qui ragazzi classici quanti lunghi qui veramente magnifica anche guardate qui guardate qui che magnifica questa magica e fa l'ombra la carta avanti al suo viso però eccolo qua le sue classiche scarpette qui no sono veramente belline queste statuette ragazzi molto molto contento anche se ripeto sono un po carucce i miei gusti però infatti mi fermo qui nella seconda uscita ed eccolo qui ragazzi veramente fantastica la nostra magica emi sono giunto allo step finale ragazzi ecco qui tutte due statuette le prime due uscite incantevoli crimi e magica emi veramente bellissime guardate qui ragazzi veramente magnifica tutte e due messe insieme vicino vicino e niente ragazzi togliamo crimi che non è in suo momento già arrivato non so come mettere mettiamo così mettiamola così che c'è sta carta davanti mettiamola così e niente ragazzi come al solito vi invito a iscrivervi al canale YARB82 cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò cliccate mettete un like se volete al video lasciate un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questa statuetta se l'avete presa anche voi fatemi sapere e niente amici noi ci vediamo alla prossima un saluto da YARB82 e da magica emi arrivederci grazie grazie grazie